Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla nostra lettura di oggi e giriamo subito le carte come sempre per vedere che cosa sta accadendo. Wow, oggi ci sono delle energie abbastanza interessanti e intense da affrontare con un 7 di spade, con un 4 di denari e con un 5 di spade. Quindi questa parte centrale della nostra stesa come sapete può riguardare qualsiasi ambito della vostra vita, amore, lavoro, famiglia, progetti, qualunque cosa, vedremo l'amore più avanti qui nella seconda parte. Con il 7 di spade stiamo cercando di evitare questioni, evitare problemi, evitare discussioni, evitare addirittura di incontrare certe persone e lo facciamo chiudendoci, chiudendoci completamente. Io non vedo, non sento, non parlo o meglio vedo perché di vedere vediamo però facciamo finta di non guardare. Sento perché le orecchie sono libere, cioè voi dovete ragazzi studenti scusate faccio una digressione per i miei studenti, voi dovete analizzare le carte per comprendere il senso di ciò che sta accadendo e il modo migliore per farlo è proprio guardare l'immagine. Gli occhi sono liberi quindi io vedo, io sento le orecchie sono libere ma non parlo, la bocca è chiusa e non solo sul mio cuore c'è un un denaro, c'è una bella monetazza spessa e grossa di metallo che impedisce ai miei campi elettromagnetico, al mio campio elettromagnetico in particolare a quello generato dal cuore, dal chakra del cuore, di passare, di trasmettersi agli altri. Chi studia commette le psichia, chi fa magia d'amore e quindi impara a utilizzare pensieri ed emozioni per manipolare le energie, sa benissimo che noi usiamo campi elettromagnetici, la vera magia è questa e quando noi blocchiamo la ricezione o la trasmissione di energia mettendo una bella monetazza di metallo davanti al chakra più potente che abbiamo è un modo per chiuderci, chiuderci non solo fisicamente stando a casa ma chiuderci energeticamente, appunto la nostra energia non va, non viene non viene inviata, non viene di conseguenza ricevuta, il problema è che non riceviamo nemmeno quella degli altri ma non è un problema se in realtà questo è il nostro desiderio, se questo è ciò che vogliamo e se la scelta è proprio quella di isolarci con il 7 per non avere rotte le scatole per non dover affrontare certe situazioni e per non doverci confrontare con nessuno o con qualcuno in particolare, ecco che in effetti questa è la scelta migliore, teniamo d'occhio la situazione, sì stiamo un po' attenti a cosa accade però non comunichiamo né verbalmente né con le azioni, quindi né con il linguaggio verbale né con il linguaggio paraverbale né con le energie e la maggior parte della comunicazione avviene a livello energetico perché è questa la comunicazione che può avvenire anche a distanza, a qualunque distanza, non importa se noi siamo in Italia e la persona in questione è in Australia, questo tipo di comunicazione arriva. L'ultima carta è il 5 di spade, perché? Perché non vale la pena lottare a volte, non vale la pena confrontarsi, non vale la pena litigare, non vale la pena dire la propria, non vale la pena. Questo 5 di spade in questo caso rappresenta la rinuncia a una battaglia, la rinuncia a star lì a litigare o a discutere su chi ha ragione e chi non ne ha. È vero che questa parte centrale della stesa può riguardare qualunque ambito della vita, quindi per qualcuno di noi riguarderà magari il mondo del lavoro o la famiglia o l'amore o altre questioni. Io non so ovviamente per ciascuno, ciascuno saprà qual è il suo caso specifico, però è anche vero che questa sarà un'energia generale che condizionerà oggi un po' tutte le nostre relazioni, un po' tutte le questioni che ci riguardano. Quindi non è la giornata giusta per attaccare sicuramente, non è la giornata giusta per prendere iniziative e quello che posso consigliarvi guardando queste carte è di trascorrere la vostra giornata semplicemente in ascolto e in osservazione, così come ci dice il nostro omino qua al centro. Vediamo le carte aggiuntive cos'altro dicono, è appunto la distruzione e la lealtà, la pianificazione e la fortuna rovesciata e l'aislamiento, l'isolamento e la modestia. Vedete? Vedete se oggi vi isolate lo fate a fin di bene o comunque lo fate perché in effetti vi rendete conto che è la scelta migliore per tutti, per voi in particolare, ma per tutti in generale, per la situazione direi in generale. Purtroppo qui c'è qualcosa che si sta spaccando, c'è qualcosa che si sta spaccando e bisogna essere fedeli a se stessi, bisogna essere leali nei confronti degli altri, bisogna essere coerenti, coerenti, dobbiamo manifestare ciò che fino ad oggi abbiamo detto, abbiamo dichiarato e abbiamo promesso per esempio. In effetti questo evitare discussioni che potrebbe sembrare forse un atto di vigliaccheria non lo è, non lo è, non lo è perché è un modo per essere leali, per essere coerenti sia con noi stessi che con gli altri e quindi che ben venga piuttosto semmai se non è ancora il momento giusto per far qualcosa e la ruota della fortuna rovesciata ci dice chiaramente che questo non è il momento giusto per far qualcosa. Usiamo questa situazione, questo tempo, questo momento per pianificare, usiamo questo momento per pensare, per riflettere, per decidere come agire in futuro, non dobbiamo per forza agire adesso, possiamo tranquillamente farlo in futuro, possiamo farlo con calma e quando le condizioni esterne sono ottimali. Infine, l'aislamiento è proprio il nostro scegliere di isolarci e se non riguarda noi comunque riguarderà qualcuno all'interno della nostra vita, qualcuno nella nostra cerchia che sceglie di isolarsi. La carta della modestia è perché, sta qui perché, non abbiamo bisogno di dimostrare niente a nessuno, non è questo quello che conta, non importa, quello che conta davvero è stare sereni. Io ultimamente lo dico spesso, non voglio problemi, non voglio questioni inutili, quella fase della mia vita in cui io ero disposta a condividere la mia vita e le mie esperienze con dei casi umani è finita, io voglio stare tranquilla, io voglio stare tranquilla e non mi interessa dimostrare a nessuno che io ho ragione o su cosa ho ragione. È una forma di modestia, è una forma di maturità che tutti voi state dimostrando in un modo o nell'altro, indipendentemente dall'ambito della vita in cui tutto ciò si svolge. E quindi ecco, in un certo senso, vi faccio anche i complimenti se state davvero manifestando questa energia e se la state manifestando appieno. È ovvio che le anime meno evolute hanno più difficoltà a trattenersi dal manifestare le emozioni e dall'essere trascinati dalle emozioni, ma le anime più evolute o comunque quelle che percorrono un cammino di crescita spirituale o di crescita personale, come potete fare voi ad esempio che mi ascoltate, sicuramente sono più agevolate in tutto questo, perché durante la vita, durante le varie esperienze, le cose che ci accadono, impariamo volta dopo volta ad avere sempre più il controllo su noi stessi. Controllo non è una parola brutta quando è accompagnato dalla consapevolezza. Controllo è una cosa brutta quando significa repressione, quando noi reprimiamo parti di noi. Emozioni, sentimenti, bisogni, lì sì il controllo va male e fa male, perché poi fa anche male alla salute. Ma quando invece si tratta di comprendere e di sapere cosa è meglio, lì no. Lì anzi è una delle cose che spingono l'evoluzione più rapidamente. Ma adesso passiamo al nostro sacro maschile, al nostro sacro femminile e vediamo un po' cosa sta accadendo in amore. Con un fante di spade e un nove di bastoni. Ebbene, come vi dicevo all'inizio, questa energia generale si sta riflettendo un po' in ogni ambito della vita, quindi anche in amore. Infatti guardate un po'. Qui c'è un maschile che sta sull'attenti, pronto a reagire se dovesse accadere qualcosa. Il femminile che sta sull'attenti in un altro modo, stanco ma... un po' incazzato anche direi... stanco ma... ma non molla. Il femminile non molla. La sua posizione è quella. Ora, come sempre dico, sacro maschile e sacro femminile non significa uomo, non significa donna, significano solo energie che stiamo canalizzando. Però ecco, vedrete voi da che lato vi sentite più attratti. Il maschile, con la conclusione e la circospezione, sta terminando una fase. Il maschile sta decisamente terminando una fase. E lo sta facendo stando molto attento a ciò che gli accade intorno. Con circospezione, appunto, possiamo sicuramente dire che sì, c'è circospezione in tutto ciò. C'è un essere pronti a mettere un punto su qualcosa, ma c'è anche un essere pronti a rispondere al momento giusto, alle parole giuste. Ecco, qui c'è un maschile che non la lascia passare. Se il femminile dovesse dire qualcosa di sbagliato, il maschile è pronto a mettere il femminile in riga, è pronto a dirgliene quattro, è pronto a esprimere le sue opinioni e le sue idee. E senza mezzi termini, non si preoccuperebbe di certo dei modi, ma lo direbbe basta, indipendentemente da o poverina ci rimane male o poverino ci rimane male. Il femminile invece, mentre il maschile finisce qualcosa, mentre il maschile finisce qualcosa, il femminile invece inizia qualcosa. E inizia proprio con il pensiero, inizia così come tutto inizia, così come ogni cosa a inizio. Inizia con... sul piano mentale, ecco, inizia sui piani spirituali, sui cosiddetti piani spirituali e precisamente sul piano mentale. In realtà qui devo fare una piccola parentesi per chi studia esoterismo, per chi segue i miei corsi, insomma per chi si occupa ed è interessato a questi temi. Tutto a inizio sul cosiddetto piano mentale superiore, che da qualcuno è chiamato anche piano carmico, o da qualcuno è chiamato piano acasico, o acascico, insomma poi ogni filosofia va a dare il nome diverso. Io preferisco chiamarlo piano mentale superiore semplicemente perché seguo la terminologia della dottrina teosofica. Pur studiando un po' di tutto, è inutile riempirsi la testa di termini diversi per dire la stessa cosa. Quindi usiamo questa terminologia. Il... i nostri... ciò che noi facciamo nella vita inizia su questo cosiddetto piano mentale superiore, cioè dove si trova l'anima vera e propria, dove si trova quella parte di noi che si reincarna vita dopo vita, fa esperienza e accumula i risultati di queste esperienze. Dopodiché, questi semini, cioè le cose che ancora non abbiamo imparato, le cose che l'anima deve ancora imparare, vengono trasmesse al cosiddetto corpo mentale, che è uno dei nostri corpi energetici, sempre utilizzando una terminologia teosofica, si trasmette al corpo mentale in cui nasce il pensiero su quel qualcosa. Ad esempio, io non ho mai fatto nelle mie vite precedenti l'esperienza di essere a capo di un'associazione, per dire, a capo di un gruppo, non ho mai fatto l'esperienza di essere un leader. E allora ecco che inizio a pensare a quanto sarebbe bello fondare un'associazione, essere presidente e organizzare ad esempio mostre d'arte, e organizzare corsi di cucina, o di uncinetto, o di qualunque altra cosa. Ed ecco che quel pensiero piano piano diventa desiderio, quindi dal corpo mentale si trasmette al corpo astrale, il corpo emotivo. Ed ecco che quando è diventato desiderio, il corpo fisico agisce per realizzarlo. Ed ecco che io vado da un notaio e apro l'associazione, e invito i miei migliori amici a far parte di questa associazione insieme a me. Cosa prova per me? Mi cercherà? Impara a leggere la sua mente con il metodo Maya. Iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com Quindi qui il femminile sta proprio iniziando questo tipo di percorsetto, perché sta iniziando sul piano mentale con un pensiero a creare qualcosa di nuovo, e sono davvero curiosa di quello che il femminile sta creando. Si parte sempre da un pensiero, e poi il pensiero piano piano diventa azione, attraversando la fase del desiderio. Ma questo magari ce lo direte voi, ce lo direte voi. Di certo questa non è la giornata giusta per parlare con lui o con lei, per mandare un messaggino o fare una telefonata. State attenti se lo fate, state attenti, a meno che ovviamente la vostra relazione non vada alla grande, e quindi non siete condizionati più di tanto da queste energie, perché ovviamente può essere. Le energie colpiscono tutti, però in base alla condizione di partenza di ciascuno di noi, di ciascuna coppia o di ciascuna persona, possono manifestarsi in modo più o meno marcato. Quindi, se fra voi va tutto bene, questo non vi scalfirà più di tanto. Ma se fra voi c'è qualcosina che non va, evitate magari oggi. Evitate, piuttosto state ognuno per i fatti suoi, prendete un po' di tempo, e non fatevi trascinare dalle emozioni soprattutto. Ma adesso vediamo invece, segno per segno, che cosa sta accadendo ai nostri 12 segni zodiacali, e ovviamente chi di voi ha voglia di avere una lettura privata, o un pacchetto che comprenda life coaching o analisi karmica, può contattarmi tramite sito internet, oppure può, insomma c'è l'email, c'è il numero di telefono whatsapp, la mia collaboratrice risponderà senza impegno a tutte le vostre domande, quindi fate pure, sentitevi liberi di contattarci, anche solo per chiedere informazioni. La stessa cosa vale per i corsi. E adesso cominciamo, ok, azzarola è caduto tutto, ma non ancora, ok, ora sì, ora sì, e cominciamo con l'Ariete. Cari Ariete, questa storia in questo momento potrebbe diventare una bella amicizia. Toro, qualcuno è ancora interessato a te e vorrebbe andare avanti. Gemelli, non riesce a lasciarti andare, ci prova ma non ce la fa. Cancro, sente la tua mancanza ma sceglie comunque di andare oltre. Leone, tutto sembra condurti a questa persona. Beh, io starei nel flusso. Vergine, vorrebbe fare qualcosa per recuperare però non sa che cosa. Bilancia, non vedete le cose nello stesso modo. Scorpione, c'è cavolo scorpione, no 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 no, qui c'è un triangolo, c'è un triangolo e la cosa va risolta se è possibile. Sagittario, l'attrazione è bella forte. Capricorno, cavolo, questa persona verrà da te quando sarà troppo tardi. Acquario, c'è un'attrazione sessuale sicuramente molto forte da parte di questa persona, bisogna vedere ovviamente dove porterà e cos'altro c'è. Pesci, per poter iniziare qualcosa di nuovo bisogna lasciare andare un'altra persona. E per ultimo vediamo il nostro consiglio angelico che è già caduto, anzi come l'altra volta, come ieri, ne sono già cadute due. Eccolo qui il consiglio. Infatti, lascia andare il passato e è ora di decidere. Non bisogna più procrastinare. È arrivato il momento di prendere una decisione o più decisioni per qualcuno. Quindi non perdete altro tempo, fatelo e state attenti a quello che scegliete. E io vi mando un abbraccio. Ciao!